dopo quelle prime notti in cui sono stato nella cella di polizia tra venerdì e domenica non ho avuto l'occasione nonostante che il mio avvocato chiedesse richiedesse e richiedesse occasione di parlare con gli inquirenti mi hanno poi detto che non ero mur maturo per essere interrogato pienamente perché se non hai fatto un po di settimane in carcere evidentemente per loro non c'erano non è un incentivo di parlare ed è questa la cosa che io trovo più scandalosa che il sistema investigativo in cui dovuto farmi fronte è un sistema investigativo che si appoggia quasi esclusivamente su la confessione come prova suprema poi quanto siano affidabili le confessioni fatte in condizioni che sono oggettivamente inumane degradanti secondo la giurisprudenza della corte europea dei diritti umani come quelle del carcere di san gil senza una data ultima data zero come si dice fine pena non si sa perché ancora non c'è la pena e ecco quanto siano poi affidabili queste confessioni è una cosa di cui io credo che la magistratura belga deve deve fare una riflessione